Rientriamo in onda qui su Play, sono le 9.37 minuti, l'avete capito, una di quelle puntate in cui sono particolarmente spietato con la musica perché le cose da raccontare sono troppe e bisogna prendersi il tempo necessario. Siete all'ascolto e alla visione di RBA, questo ve lo ricordo, poco fa vi ho preannunciato che avremmo parlato di un testo, un libro pubblicato per Altra Economia che si intitola La Russia che si ribella, ha due autori Federico Varese e Maria Chiara Franceschelli che abbiamo qui in collegamento con noi e quindi la salutiamo, ciao Maria Chiara. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, questo libro parte da un dubbio che ci si è posti molto spesso nel corso degli ultimi due anni e forse anche un po' prima, insomma si parla molto spesso del piglio autoritario di Vladimir Putin nei confronti della Russia, la repressione del dissenso e anche ad esempio la guerra in Ucraina che ha portato a morire tantissimi russi e quindi ci si prova a chiedere, ok, ma quindi come mai non ci si ribella contro Putin? Visto però che la Russia è un paese assolutamente immenso con una grandissima popolazione anche molto più varia di quella che forse ci immaginiamo in genere, un po' ne abbiamo avuto un accenno nel racconto dell'attentato del venerdì scorso quando si parlava di etnie all'interno della Russia, forse questo non passa moltissimo in Italia. Quindi insomma un argomento gigantesco, complesso, dentro un libro non ci può stare tutto e quindi qual è stato un po' il punto di partenza, il taglio per affrontare questa domanda? Allora, noi siamo partiti proprio dalla constatazione appunto che la Russia è un paese molto difficile da vagliare, da analizzare innanzitutto in virtù della sua conformazione, della sua grandezza geografica ma anche etnica. La Russia è un paese enorme che ospita al suo interno tante nazioni, tanti popoli e in generale tante persone molto diverse. Noi abbiamo cercato, cioè nonostante di partire però proprio dalle persone, cioè una prospettiva che fosse il più possibile dal basso che raccontasse storie diverse fra loro, molto diverse, che chiaramente non possono offrire uno spaccato rappresentativo di quello che è il popolo russo o la Russia, cioè chiaramente un libro che racconta cinque storie di persone reali, di persone vere, lo ricordiamo, non c'è nulla di inventato, in questo libro non può restituire un quadro rappresentativo e complessivo ma una cosa può farla in maniera molto efficace, ossia dare uno spaccato di quello che possono pensare e come possono agire persone che vogliono opporsi a un regime che è capillare, che ha un controllo ormai quasi assoluto sulla popolazione, sull'informazione e in generale ha una grande capacità repressiva. Ecco, cosa possono fare cinque persone molto diverse fra loro, che abitano anche in zone molto diverse della Russia, sia sia rurali che urbane, se vogliono opporsi a questo regime? Noi abbiamo cercato di partire proprio da qui. Sì, esatto, l'idea è quella quindi di far sentire proprio la voce di alcune delle persone che volete raccontare che mi sembra, insomma, io percepisco proprio come essere il nostro grande limite in questo momento, non necessariamente il nostro limite, però insomma noi sentiamo che ci sia proprio un muro impenetrabile tra noi e la Russia e quindi ci arrivano notizie dalla Russia da avagliare, da verificare, da prendere con le pinze, insomma c'è un racconto molto confuso, senza altro quello che ci manca è il rapporto con chi vive in quel paese. Noi ci immaginiamo un inferno totale 24 ore su 24, evidentemente ci sono enormi difficoltà, ma chiaramente se c'è tanta gente che sceglie di rimanere nel paese ci saranno tanti tanti motivi i più vari, tra i quali magari anche provare a cambiare le cose. E quindi ci puoi raccontare un po' chi avete intervistato e insomma anche qui immagino che la scelta fosse molto ampia, potevate intervistare tante persone, come mai queste? Ma allora, noi abbiamo intervistato queste persone fondamentalmente senza troppi giri di parole perché abbiamo avuto la fortuna di avere accesso diretto a queste persone. Sia io che Federico Varese abbiamo lavorato in Russia in passato, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, prima del lancio dell'invasione, e quindi abbiamo anche contatti sul territorio, quindi è stato in un certo senso facile rintracciare persone con cui volevamo parlare. Noi abbiamo tentato di appunto parlare con persone che potessero illuminare vari aspetti di quella che è la vita della società civile e del popolo russo in queste condizioni. E quindi siamo partiti proprio dalle nostre capacità, con chi potevamo parlare. Dunque abbiamo intervistato cinque persone appunto, dicevo, dalle vicende molto diverse. La prima persona si chiama Yudmila, è una signora parecchio anziana, quella che viene definita in russo una bloccadnizza, dalla parola bloccada, che sta a significare l'assedio di Leningrado. Lei era viva e ha vissuto ed è sopravvissuta all'assedio di Leningrado, quindi anche purtroppo in virtù di quell'esperienza assolutamente drammatica che ha vissuto, ha idee molto chiare riguardo un regime totalitarista e soprattutto riguardo alla guerra e agli orrori che la guerra si porta con sé. Poi abbiamo intervistato un uomo di chiesa, un padre Yom, che è un pop della chiesa ortodossa che lavora in una comunità rurale molto piccola che si è espresso durante un'omelia contro la guerra in Ucraina. Ricordiamo che in Russia la chiesa ortodossa è un importantissimo alleato del crendino e dunque facendo questa cosa lui si è esposto a un rischio che poi purtroppo si è concretizzato perché fra i suoi spettatori, che erano una manciata di persone, parliamo di 12-15 persone, c'era poi una persona che ha fatto dal delatore, ha denunciato alla polizia il discorso che padre Yom ha portato avanti. Poi abbiamo un professore, un professore di filosofia, con cui abbiamo parlato di sondaggi di opinione, appunto anche di quello che dicevamo io e te prima, cioè della difficoltà di accedere alle informazioni. Innanzitutto, non solo per il fatto che chiaramente i ponti che c'erano prima tra i paesi europei e la Russia sono stati tranciati in larga parte, ma anche e soprattutto la difficoltà di registrare l'opinione, cioè che cosa pensano i russi, qual è il reale supporto per Putin, questi sono dati molto difficili da raccogliere perché in un contesto del genere, cioè quindi in un contesto autoritario, in un contesto in cui esprimere la propria opinione non è semplice e può portare a conseguenze molto gravi, i sondaggi di opinione non funzionano. Quindi con questo professore, che è il nostro terzo intervistato, abbiamo parlato proprio della difficoltà di sondare l'opinione pubblica, che era parte integrante del suo lavoro di ricercatore, in un contesto del genere. Poi il nostro penultimo intervistato è un attivista per i diritti umani, che si è concentrato soprattutto sul tema delle carceri, di cui purtroppo ha molta esperienza, e attraverso la sua voce parliamo di come sostanzialmente in Russia il potere giudiziario sia anch'esso uno strumento repressivo del regime. Quindi le condizioni dello Stato di diritto, che vedono il potere giudiziario come trasparente, come autonomo e come volto a garantire giustizia a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, siano completamente stravolte e diventi effettivamente uno strumento a tutti gli effetti punitivo. L'ultima intervistata poi del nostro libro è una giovane giornalista che ha fondato tanti anni fa all'interno di un'università moscovita un giornale, una rivista, che è nata appunto come rivista universitaria e poi dopo, mano a mano, con gli anni, si è, diciamo, ha travalicato le mura dell'università ed è diventata una rivista indipendente e di opposizione a tutti gli effetti. E con lei parliamo di due cose. Parliamo appunto di come le università nella Russia di Putin siano progettate per essere un luogo apolitico, in cui non si discute di politica e come le università siano state sempre più fagocitate dal regime, ma anche cosa vuol dire essere giornalista. Il ruolo del giornalista, soprattutto in un contesto del genere, è come questo ruolo non può prescindere da una critica, da un certo prendere parte attivo, quindi da un ruolo che diventa politico se vuole effettivamente fare il suo dovere di cronaca. Con questo per dare un po' una panoramica delle persone con cui abbiamo parlato e di cosa ci possono rivelare su un regime che diventa sempre più soffocante e repressivo. Esatto, sì, da un lato mi sembra di capire che si racconta appunto come viene portata avanti questa repressione e in parte quindi si risponde a quella domanda di partenza, come mai non vediamo una ribellione di massa da parte dei russi. I motivi possono essere vari, ma uno può essere il fatto che magari un uomo di chiesa fa un'omilia di fronte ad una manciata di persone e ciò nonostante viene segnalato all'autorità insomma basta così poco per essere appunto scoperti e osteggiati. Dall'altro però ci racconti anche che comunque questa opposizione c'è, insomma questo movimento c'è, in parte l'avevamo già comunque ricordato di recente con la morte di Alexei Navalny e insomma tutto il sostegno che ha avuto alla funerale, la fenda di gente al suo funerale, però insomma mi sembra di capire che avete scoperto che l'opposizione, avete scoperto, insomma avete ribadito che l'opposizione c'è e soprattutto che si muove da tante direzioni diverse. Sì, diciamo che questo libro ha una tesi fondamentale, questa tesi è che l'opposizione a un regime può assumere molte forme diverse e molto spesso assume forme a cui noi non siamo abituati. Cioè noi appunto siamo partiti dalla domanda perché i russi non si ribellano, no? Che è una domanda che abbiamo sentito porre molto spesso anche nel dibattito pubblico da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e a noi questa domanda sembra una domanda fuorviante, cioè la domanda sostanzialmente sbagliata da porsi e quindi la domanda che poniamo noi e a cui diamo una risposta, o perlomeno tentiamo di farlo in questo libro, è come si ribellano i russi e perché si ribellano in questo modo. Cioè pensare all'opposizione in termini di rivoluzioni, di grandi piazze, di una sommossa popolare potentissima che spodessa Putin dal suo trono e apre la via una Russia libera e democratica significa sostanzialmente ignorare un processo storico che ha portato invece a un'altra situazione e la situazione in questione purtroppo è una situazione in cui in Russia sono totalmente assenti le infrastrutture su cui solitamente si basa un'opposizione fitace, che possono essere parlamentari, quindi appunto parliamo di partiti di opposizione che possono effettivamente controbilanciare il potere del governo e appunto discutere anche in sede parlamentare di come gestire il paese, ma anche e soprattutto di infrastrutture in sedezze parlamentari, quindi grandi movimenti oppure sindacati o gruppi organizzati. Ecco tutto questo in Russia al momento non c'è. Non c'è perché questa assenza è il risultato di un processo durato 20 anni in cui Putin ha sostanzialmente eroso ogni margine di manovra della società civile. Nel libro poi spieghiamo anche come in senso pratico abbiamo un appendice che è la cronologia dell'opposizione e della resistenza in cui vediamo come si alternano i passi repressivi del Cremlino e la risposta del popolo, se così vogliamo. E dunque al termine di questo processo, al culmino perlomeno, perché purtroppo il processo non è terminato, ma si sta ancora svolgendo, dunque al culmine di questo processo noi siamo in una situazione in cui chi si vuole ribellare Russia non ha qualcosa su cui appoggiarsi e dunque deve basarsi su altri tipi di repertori, di metodi, che sono i metodi che descriviamo in questo libro, quindi i repertori più individuali o se vogliamo più performativi. E chiaramente questi metodi, noi non ci illudiamo, pensando che in realtà magari la Russia sia fatta di un'opposizione, una maggioranza silenziosa che si oppone a Putin, ma non può dirlo, non è assolutamente quello che sosteniamo, quello che crediamo, Putin purtroppo ha una maggioranza. Ma quello su cui vogliamo gettare luce è che comunque in Russia ci sono tante persone molto coraggiose che non hanno nessun tipo di mezzo su cui appoggiarsi, non hanno potere, non hanno risorse per portare avanti la propria opposizione e lo fanno lo stesso. Noi vogliamo mostrare come viene fatta questa cosa e quale implicazioni può avere. Sì, diciamo che questo discorso sulla rivoluzione al di là della situazione russa è un po' un tic che si ha nell'osservare situazioni altrui ignorando tutte le possibili complicanze e anche con un po' di paternalismo rispetto alla rivoluzione russa. Le guardiamo un po' dall'alto, diciamo, ma come mai questi poveretti un po' ingenui non si ribellano e invece, insomma, la situazione come ci dimostra è un po' più complicata. Insomma, noi abbiamo cercato di fare un po' uno sguardo generale rispetto a questo testo pubblicato da Altra Economia, ve lo ripeto, si chiama La Russia che si ribella, eccolo, lo vediamo anche mostrato dalla nostra intervistata Maria Chiara Franceschelli che lo ha scritto assieme a Federico Varese. Grazie mille, Maria Chiara, e alla prossima. Grazie mille, buona giornata. Grazie mille.